Ciao a tutti dal vostro SkiBam. Allora, oggi voglio parlarvi di questo libro, come avrete già visto nel titolo, questo libro Ultimate Skiing di Ron LeMaster, purtroppo solo in inglese, ma a mio parere assolutamente un must, must have per tutti gli appassionati di sci, magari non i principianti, anche perché un principiante difficile che possa già ritenersi un appassionato di sci, ma sicuramente un must per tutti quelli che hanno deciso che lo sci è la loro passione, hanno voglia di dedicare tempo e risorse per migliorare quindi anche tutti gli sciatori intermedi che vogliono diventare sciatori avanzati e assolutamente per tutti gli sciatori avanzati che vogliono diventarlo ancora di più, che vogliono ancora migliorarsi, sia in campo libero che in gara, assolutamente un libro molto interessante, a me è piaciuto molto ed è servito molto. È un libro del 2009, quindi sicuramente un libro non recentissimo, ma assolutamente, assolutamente moderno e già assolutamente nell'era carving, quindi non troverete niente che non riguardi lo sci moderno, effettuato con gli attrezzi moderni, gli sci cosiddetti carving. Ora, qual è l'approccio di Ron LeMaster? Ron LeMaster è un americano, è un maestro di sci, si occupa di sci da 30 anni, allenatore, ha collaborato anche con molti atleti, è un ingegnere meccanico come me e come me ama sciare e andare in bicicletta. Bene, purtroppo le somiglianze sono finite qui, non so come scia, magari sono più bravo io chissà, ma non è importante insomma. Quindi, com'è questo approccio? Allora, lui è un americano, quindi approccio all'americano, a me gli approcci all'americano piacciono, piacciono molto, ma hanno dei limiti. In questo caso però questi limiti mi pare che siano stati superati. Cosa voglio dire? Cioè, per chi conosce Arald Arb, Arald Arb ha un approccio veramente molto molto americano, molto schematico, Arald Arb va all'osso del problema, propone una progressione didattica che invece Ron LeMaster non propone. Ron LeMaster propone un'analisi abbastanza approfondita, ma fruibile da tutti, a mio parere, riguardo a quello che è lo sci. Si parte con i primi capitoli che si chiamano Skying Mechanics, Skis, Snow and Motion Control e Turn Anatomy 101, quindi si parte dalla meccanica dello sci, dalle forze che regolano lo sci. Da buon ingegnere meccanico, a mio parere, le spiega in modo molto comprensibile, comprensibile a tutti, certo, chi non ha dimestichezza con la fisica, magari dovrà studiarsi un po' di capitoli, ma sicuramente ci arriverà sopra, diciamo, non ci saranno dei passaggi veramente incomprensibili. Quindi spiegato con la giusta rigore, ma anche con la giusta semplicità. Quindi, prima parte dedicata un po' alla fisica dello sci, a quali sono le forze che ci consentono di sciare, e alle caratteristiche dell'attrezza dello sci carving, alle caratteristiche dello sci carving, come lo sci carving è in grado di generare e di gestire le forze che ci consentono di curvare. nella seconda parte del libro, invece, che è costellato da queste immagini stroboscopiche molto interessanti, molto interessanti e molto utili. Quindi queste sequenze di immagini si chiamano stroboscopiche, che mostrano l'atleta nelle varie fasi di curva, in un'unica immagine, è pieno il libro di queste, apro a caso una pagina e se ne trovano, vedete, molto molto interessanti queste immagini. Quindi nella seconda parte del libro, invece, troviamo un'analisi sulle tecniche, e quindi un'analisi sulle posture che deve tenere lo sciatore, e su tutti gli equilibri che deve mantenere, e tutti i movimenti che deve fare. Quindi i movimenti avanti e indietro, movimenti alto e basso, movimenti laterali. A mio parere, tutti questi movimenti sono spiegati in modo preciso, chiaro e molto efficace. Mi è piaciuta molto anche questa parte. Questo è il cuore, sostanzialmente, del libro, della trattazione, e fornisce una trattazione molto, molto chiara. Studiandosi questo libro, questa parte centrale, a mio parere, si riescono a mettere in fila molte cose che magari si sono apprese un po' di qua, un po' di là, dette da maestri, trovate su forum, e che a volte, purtroppo, creano un po' di confusione, perché spesso sono contraddittori, non si capisce bene quando bisogna piegarsi, quando bisogna estendersi, se bisogna fare la distensione oppure no, eccetera, eccetera. Questo testo mette le cose abbastanza in chiaro, la trattazione è lineare, ha una sua coerenza. A me è piaciuta, è piaciuta molto. Si, non vengono, non è un libro per imparare a sciare, sia chiaro, vengono proposti, viene proposto qualche esercizio, ma poca roba, cioè il contrario di Harald Arb. Arb propone un metodo per imparare a sciare, una progressione didattica, vai a fare questo esercizio, poi questo, poi questo, poi questo, metti tutti insieme e impari a sciare. Qui no. Questa è una trattazione su cosa è lo sci, quali sono i movimenti, poi sì, ci sono i consigli, tutto quello che leggiamo in questo libro è applicabile, ma non è un libro per imparare a sciare. Sicuramente è un libro interessante riguardo la tecnica, un libro per affinare la tecnica, per capire le cose e poi riuscire a mettere in pratica sul campo quello che magari andiamo a imparare da un maestro o le stesse cose che vediamo qua, le stesse strategie, le possiamo andare a mettere in pratica, però sicuramente dobbiamo metterci del nostro. L'ultima parte del libro riguarda varie situazioni in cui possiamo trovarci e come gestirle, ghiaccio, gobbe, powder e ripido. Una sezione abbastanza breve, non aspettatevi niente di che, ripeto, la parte corposa è quella inerente alla trattazione teorica dello show. Bene, concludendo, Ultimate King, Ron LeMaster, assolutamente da avere in libreria, ditemi cosa ne pensate se l'avete già letto, ditemi cosa ne pensate se lo comprerete e lo leggerete, direi che per oggi è tutto, mi raccomando, casco in testa sempre ben allacciato e gas aperto sempre.